Andiamo avanti con la nostra battaglia Italia-Germania con il quinto match della serata Categoria 72-5 kg all'arco blu da T-Arco E-Kais con uno scorti con 14 incontri con 3 sconfitte 11 vittorie di cui 4 per K.O. Ragazzi un grande applauso per Martin Fritta Grazie 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 Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti